Non curanti di tutte le regole di protezione della propria salute e di quella degli altri, un gruppo di ragazzi si era dato appuntamento e poi aveva iniziato a passeggiare per le strade di Saione. Sono incappati però nei controlli della Guardia di Finanza. L'appuntamento era nato per mangiare qualcosa insieme, nonostante gli assembramenti fossero vietati. Poi non contenti sono usciti per le strade di Saione. Per loro sfortuna però hanno incontrato la Guardia di Finanza di Arezzo che insieme alle altre forze dell'ordine sta monitorando il territorio. Si tratta di un gruppo di ragazzi tutti maggiorenni trovati nelle strade di Saione senza alcuna giustificazione e quindi sono scattate le inevitabili sanzioni. La stessa cosa è avvenuta anche per un uomo sorpreso a camminare per le strade del Casentino dichiarando di recarsi a fare visita a non meglio precisati parenti. La Guardia di Finanza precisa di aver intensificato i controlli ricorrendo ad una presenza più importante con mezzi e personali appositamente dedicato solo oggi sono stati impiegati 40 militari. I controlli sono estesi anche alle attività economiche per verificare il rispetto delle regole di contenimento sociale. I controlli sono stati effettuati anche in elicottero. Il velivolo ha sorvolato il centro di Arezzo spostandosi poi verso la periferia guidando dall'alto la pattuglia su strada appositamente indirizzata verso luoghi dove maggiorerà l'affluenza di autovicoli e di persone nonostante la presenza di numerose pattuglie non sono mancate le violazioni. La sanzione va da un minimo di 400 ad un massimo di 3.000 euro. La Guardia di Finanza sta anche monitorando il settore della commercializzazione di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuale per controllare che sia tutto a norma di legge.